La squadra è anticipata a martedì per il Catania, atteso al big match del Massimino contro il Matera, squadra ufficialmente al completo, anche se i due posti over, liberati in rosa, lasciano comunque un margine di manovra alla dirigenza rossazzurra per operare sul mercato degli svincolati. Resta il rammarico per non aver potuto riportare l'odi in rossazzurro, nonostante la voglia del giocatore di tornare a Catania, ieri intanto primo allenamento per Demiro Pozzebon che ha quattro giorni di tempo per convincere Rigoli a buttarlo subito nella mischia.